Uno dei momenti più significativi delle grandi innovazioni di metodo e quindi di filosofia, di concezione della realtà legate all'esperienza di Galileo, legate alla sua vicenda, è la pubblicazione nel 1610 del Siderius Nuncius, un'opera in latino, come in latino è il titolo, Siderius Nuncius può essere tradotto annuncio relativo ai corpi celesti, annuncio relativo agli astri, in cui Galileo racconta in un modo appassionato e con un grandissimo piglio anche narrativo, è di come perfezionato nei laboratori di Padova, dove lui lavorava in contatto con gli artigiani vetrai di Murano, della grande tradizione vetraia di Murano e di Venezia, messo a punto un cannocchiale particolarmente perfezionato, tuttavia un cannocchiale sufficiente per la prima volta a fare delle osservazioni affidabili, puntuali del cosmo. Ebbene Galileo racconta nel Siderius Nuncius di queste notti, di queste lunghe, fredde notti dell'autunno e dell'inverno del 1609, nelle quali saliva nel terrazzo, posto sopra la propria abitazione, anche grazie al fatto che l'inquinamento luminoso delle città, l'inquinamento luminoso all'epoca era così scarso, osservava, si può dire per la prima volta, con uno strumento di ingrandimento, per esempio la Luna, e scopriva che la Luna non era quella che sempre era stata descritta dalla tradizione filosofica e dalla tradizione scientifica antica, a partire da Ptolomeo e poi da tutto il pensiero medievale, cioè non era un corpo cristallino, non era un corpo impalpabile, non era un corpo perfetto, era al contrario un corpo pieno di crateri, montagne, buchi, cioè era un corpo di pietra, di materia, esattamente simile a quella terrestre. Studiava poi le ombre che la Terra riflette, proietta sulla Luna e studiando le ombre della Terra sulla Luna, cioè l'aumentare e il diminuire della Luna a seconda delle fasi, era in grado di cominciare a fare dei calcoli relativi alle relazioni tra i due corpi celesti e trarre poi delle conclusioni circa l'organizzazione complessiva dell'universo, così come nell'osservazione dei quattro più importanti satelliti che ruotano attorno a Giove. Col cannocchiale Galileo può individuare Giove, definirne in qualche modo già la conformazione come di nuovo simile alla Terra, quindi come di pianeta e osservando la presenza, la collocazione dei quattro satelliti principali, delle quattro lune principali che lui battezza pianeti medicei in onore alla famiglia dei Medici che all'epoca lo proteggeva, osservando la posizione di queste quattro lune Galileo può dimostrarne, ora perché una è sparita dietro Giove, ora perché addirittura due sono nascoste da Giove, può dimostrarne la rotazione attorno al pianeta e da questo microsistema di rivoluzione, confermare le teorie copernicane e portare un grandissimo contributo sperimentale alla tesi dell'eliocentrismo e non più del geocentrismo.